North Brother Island è una piccola isola di New York tra il Bronx e il Queens, circondata dalle acque dell'East River. La South Brother Island, sua isola gemella, si ritrova poco più a sud. Le due isole sono disabitate da più di 50 anni, anche se tempo fa ospitavano diverse strutture. Sull'isola North Brother vi era la sede ospedaliera per i malati che dovevano essere messi in isolamento a causa delle epidemie tra la fine del XIX secolo e gli anni 30. Solo negli anni 60 la struttura fu abbandonata del tutto. Ma perché quest'isola è considerata ancora oggi maledetta? Ebbene, dal 1915 al 1938, una portatrice sana di tifo, che nel corso degli anni aveva contagiato oltre 50 persone, fu confinata sull'isola. Il suo nome era Mary Mellon, nota anche come Tifoid Mary. In molti pensano infatti che l'isola sia ancora infestata da Mary Tifoide, ovviamente non in modo letterale, ma parlando di batteri potrebbe essere. In molti pensano infatti che l'isola sia ancora infestata da Mary Tifoide, ovviamente non in modo letterale, ma parlando di batteri potrebbe essere. In molti pensano infatti che l'isola sia ancora infestata da Mary Tifoide, ovviamente non in modo letterale, ma parlando di batteri potrebbe essere. Grazie a tutti.